di nuovo KO io mi scelgo questo qua allora cominciamo nel peggiore dei modi però di nuovo KO io mi riprendo i fratelli l'order qua come si chiamano loro due sono andati ora tocca al terzo porca puttana dobbiamo uccidere il primo perché se ci viene vicino è super pericoloso il rapina non so chi mi possa prendere gelinto abbiamo fatto già un botto di danni football e andiamoci a prendere andiamoci a prendere i gemelli bene così 1 a 0 abbiamo vinto ricercati e vaffanculo anche questo ci mi posso prendere pazzo cazzo cazzo già ci stanno distruggere la cassa non state solo che protegge però perché non serve a niente indominio mi devo proteggere anche da vicino scegli un bombardino del cazzo un po rotto i coglioni e porca puttana non è possibile però anche se in teoria dovremmo farcela no non ci credo allora 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 dai siamo 7 ora sono 20 le star ma come cazzo e lo sapevo io porca di quella troia è uno solo a volte sono tre a volte sono uno si capisce più cazzo qua ma sono cose da parte allora stavamo giocando tanto bene prima ora facciamo queste cose qua ricercati ricercati mi prendo scegli ciao